Una donna ogni tre giorni in Italia viene uccisa per questioni legate alla violenza di genere e quanto emerge dagli ultimi dati Istat relativi al 2017. E la cronaca recente ci svela che la tendenza dell'uomo a sopraffare la donna non risparmia nemmeno l'Abruzzo. Abbiamo circa 90 casi ogni anno, nel senso che ci sono 90 donne che ogni anno si rivolgono al centro antiviolenza La Fenice. Quindi in realtà la violenza è un fenomeno molto diffuso che va a toccare la donna soprattutto dal punto di vista psicologico. Per tutte quelle donne che magari hanno dei dubbi, perché poi riconoscere la violenza è molto difficile, di chiedere aiuto e di effettuare anche un colloquio presso il nostro centro antiviolenza che garantisce la privacy, l'anonimato, la riservatezza. E per quanto riguarda la denuncia è sempre una scelta della donna. Cioè recarsi in un centro antiviolenza non vuol dire denunciare, ma vuol dire trovare uno spazio di ascolto dove raccontarsi. Il 25 novembre sarà la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. La ricorrenza fu istituita dalle Nazioni Unite per ricordare il brutale assassino di tre sorelle dominicane rivoluzionarie, uccise nel 1960 per aver osato contestare il dittatore Trujillo. In questi giorni il comune di Giulianova, affiancato da diverse associazioni, promuoverà una serie di eventi sul territorio per dire no alla violenza di genere. L'iniziativa principale coinvolge tutti i commercianti del Lido e del paese che si sono prestati, hanno accettato questa nostra proposta del dono sospeso. Il dono sospeso consiste nella posizione innanzitutto di una locandina con il numero del centro antiviolenza da chiamare in caso di urgenza e poi chiunque di noi può recarsi in questi negozi e acquistare qualcosa per queste donne che spesso sono costrette ad abbandonare la propria casa senza avere la possibilità di portare con sé dei vestiti o comunque degli effetti personali. Per cui l'idea è quella di poter acquistare queste cose e lasciarle poi lì in negozio e poi i commercianti si preoccuperanno di portarli al centro antiviolenza.